e riallunga Pistoia più quattro, Italia, Herbie, piedi per terra per la trepla di Kellen Herbie, rispondono in campo, quindi primi cambi per Reggio Emilia, Herbie va in penetrazione, sede la tribazia, 15 falle di Maronano, indirizzato per Svede, Weber, Smith, l'appoggio sotto finestra da parte di Herbie, Herbie esce a molto spazio e in filo la trepla, partita maestosa, giro sul piede per l'immediato, sono segnato il pallone schiacciato per Herbie, la finta Herbie va poi per il tiro da tre punti, da lontanissimo, Kevin Herbie!